e per tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi vi racconterò la mia noris cup 2024 ai laghe del farfa a roma è stata una gara sudata fino all'ultimo sia per me che per il resto della squadra non vi dico altro buona visione ragazzi 10 secondi 3 2 1 fischi setty fischi in canna fischi setty 1, 2, 3, 2, 1, inizio d'urdo. 3, 2, 1, inizio d'urdo. 7, 2, 5, 4, 3, 1, inizio d'urdo. 7, 7, 7, 7, 5, 4, 3, 2, 1, inizio d'urdo. 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 7, 7, 7, 7, 7. 1, inizio d'urdo. 3, 2, 1, inizio d'urdo. 1, inizio d'urdo. 1, 2, 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 inizio d'urdo. 7 pesce in canna 7 pesce in canna 7 che dire ragazzi mi stava andando molto bene ma mi sono bruciato gli ultimi due turmi facendomi sfiorare la qualifica in semifinale le cose sono andate diversamente però per gli altri ragazzi del club come Francesco che insieme a Carol sono andati in semifinale e finale senza però arrivare al podio al di là dei risultati per me è stata una bellissima giornata passata insieme al mitico team Shark Area nulla ragazzi ci vediamo al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti